Ciao a tutti e bentornati su Recenso. La puntata di oggi è incentrata su un libro. Volevo farla anche sul film tratto da questo libro, però non l'ho potuto vedere perché quando uscì, se non sbaglio, sì, io lavoravo ancora al cinema per cui non avevo proprio il tempo materiale per andare a vederlo. Questo libro è uscito nel 2012 ed è stato scritto da un ragazzo e da una ragazza, forse un po' meno conosciuta rispetto a lui e purtroppo del ragazzo non posso dire molto, anche perché è alquanto conosciuto e quindi potrei dire bagianata. In più, su internet una biografia accurata non esiste, almeno non l'ho trovata. E quindi, bando alle ciance, parlo di Will Wish, Guglielmo Scilla e di Alessia Pelunzi. Questi due ragazzi hanno scritto questo libro, che si intitola Dieci regole per fare innamorare. Ho detto, vorrei parlare di Guglielmo, che ho avuto modo di seguire quasi dagli inizi di quando ho iniziato appunto a fare i video. Mi fa morire dalle risate, mi posso definire un fan alquanto sfegatato. Infatti, prima ancora che nascessero su Facebook le pagine fan sui suoi video, già pubblicavo tramite le note del mio profilo un po' di screenshot fatti ai suoi personaggi con delle frasi dette stesso nei suoi video, che mi facevano schiattare dalle risate, tipo Calpurnia col K, queste cose qua che mi fanno veramente morire. So solo che è nato nel 1987. È un youtuber, forse il primo vero youtuber italiano. Ha pubblicato, questo è il suo primo libro, però ha fatto parte di già tre film, se non sbaglio, tra cui un cinepanettone, che non vedrò, scusami, ma non ce la faccio, e un film per MTV, se non sbaglio si chiama... non me lo ricordo, perché la mia memoria è quella che è. Comunque, ho avuto modo, vi ho detto, di conoscerlo anche al Cavacon di Cava dei Tirreni, la fiera del fumetto di Cava dei Tirreni, nella sua prima edizione, quasi due anni fa, che ho invitato come ospite principale, e presento anche la sfilata dei cosplayer. Ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo scambiato qualche chiacchiera, quindi niente di che, però ci siamo ritrovati su alcuni punti in comune. Mi ha fatto molto piacere, perché almeno non sono fuori dal mondo come non lo è lui, e quindi ci siamo ritrovati. E niente, parliamo di questo libro, che sono andato a comprare giusto quando ci fu la presentazione alla Feltrinelli di Piazza Garibaldi a Napoli. C'era la presentazione con lui e con Alessia, e una fila che non finiva più. Purtroppo l'organizzazione a Napoli è completamente sballata rispetto a quelle del Nord, e quindi quello che ha detto al microfono non si è sentito. Almeno chi stava a metà del corridoio, perché alla fine era un corridoio tra le librerie, non ha sentito praticamente niente, perché i dipendenti più che altro si sono spaventati, perché la gente saliva una addosso all'altra, si arrampicava sulle librerie, gli animali in pratica. Il libro costa 12 euro, ha questa copertina morbidissima, una rilegatura veramente stupenda, mi piacciono molto i libri così morbidi, e le ali che sono quasi quanto la copertina come larghezza. È stata pubblicata dalla Kowalski. Non voglio rovinarvi quello che c'è scritto, perché ovviamente se uno lo compra, e io già vi ho detto tutto, si rovina un po' l'attesa e il divertimento, perché è un libro che fa sbellicare dalla prima pagina all'ultima. Allora, questo libro si divide appunto in dieci regole. Dieci regole che ovviamente una persona sana di mente non deve prendere alla lettera, o come se fosse orocolato solo perché l'ha scritto Guglielmo, eh. non per sminuire lui, ma perché ci sta gente che quando diventa fan di una persona diventa pazza, fanatica e non ci sta più con la testa. Per cui prendiamo le cose per quello che sono. È un libro comico, è un libro che fa ridere, è un libro che fa anche pensare in alcuni punti, o almeno a me ha fatto pensare. E mi ha fatto anche un po' rivedere alcune cose. Ogni capitolo, ovviamente, il tutto è preceduto da una specie di introduzione, che è come se fosse una regola zero, nella quale appunto si danno un po' i binari di quelle che poi sono le regole successive. Quindi, le regole funzionano in questo modo. Si dividono, si dà la regola, poi si dividono Alessia e Guglielmo e danno ognuno le proprie impressioni o comunque le proprie esperienze. Ovviamente, essendo comunque adolescenti o pseudotali, l'argomento principale è uno soltanto. In questo libro, però, oltre a essere preso non alla larga, ma sul lato proprio divertente, comico, viene quasi analizzato come se fosse l'unico obiettivo, e in sostanza, per carità, lo è, però non deve essere l'unico in assoluto. Per cui, prima di, come dice la Lettizzetta, arrivare alla materassa, Guglielmo e Alessia cercano comunque soluzioni che non facciano diventare questo rapporto una cosa sterile e principalmente carnale, ma un'esperienza tra due persone che non solo si vogliono bene, ma trovano e si ritrovano l'uno nell'altro. Ci sono delle parti in questo libro dove non sono riuscito bene a capire di chi sia il pensiero. Ho notato, prima ancora di comprarlo, gente su internet che si lamentava del fatto che Guglielmo avesse denigrato e criticato i cosplayer o comunque i, come si chiamano, i fissati per gli anime e i manga. Insomma, ci siamo capiti. Gli appassionati di anime, manga e cosplay. Ovviamente, ragazzi, è un libro comico. Non stiamo a prendere, come ho detto, tutto quello che dice Guglielmo come se dovesse dare lui giudizi su chissà che cosa della nostra vita. È una vostra passione. È una nostra passione essere, diciamolo, fissati con fumetti, anime e manga. E lui, in questo caso, sta ridendo di questa cosa perché, diciamocelo, ci sono cose, ci sono persone che non hanno la giusta misura del mezzo e quindi vanno un po' nel fanatismo. E andare nel fanatismo, comunque, diciamocelo, fa perdere un po' di punti con persone che ovviamente non sono fanatiche e addirittura se ne fregano altamente di anime e fumetti vari. L'unica cosa che mi va di segnalare è il fatto che, avendo comunque la loro età, comunque, essendo un libro scritto in una maniera colloquiale, molto, molto semplice, molto, molto divertente, aiuta anche un minimo di introspezione. E anche se è un libro, appunto, comico, questa introspezione è anche più facile farla perché, ovviamente, la fai col sorriso. E quindi, per questo lo consiglio, soprattutto se non prendete tutto come ho colato perché io l'ho letto qualche mese fa, quindi, così come è uscito, e come vedete, sono single. Per cui, o non le so applicare, molto probabilmente, o comunque, ed è certo che è un libro che fa ridere, che è divertente e che bisogna prendere per quello che è. Di questo libro, quasi in contemporanea, è uscito anche il film, diretto da Cristiano Bortone. A questo film ha partecipato anche Vincenzo Salemme, che però io continuo a preferire quando fa teatro, per cui non ditemi niente ma a me Vincenzo Salemme in televisione e al cinema non piace, lo preferisco a teatro. La storia, ovviamente, è stata sceneggiata per il cinema e racconta di questo ragazzo che si chiama Marco, che si è invaghito di una ragazza di cui non ricordo il nome, mi sembra Stefania, tramite il padre che è separato dalla madre e quindi non hanno questo bellissimo rapporto padre e figlio, tramite quindi l'aiuto del padre che gli dà piano piano queste dieci regole per fare innamorare, Guglielmo, cioè Marco, dovrebbe riuscire in questa impresa di acchialappare la ragazza dei suoi sogni. Io volevo vederlo, come ho detto, purtroppo non ci sono riuscito per questioni di tempo, lo volevo vedere tramite altri mezzi, però mi scocciavo di vedere questa telecamera, questa telecamera, questo schermo tutto storto, l'audio incasinato e quindi già a me i film italiani non piacciono, soprattutto questo genere, per di più era di questa qualità, quando poi sarà che lo faranno in televisione o che trovo una qualità migliore o che effetto il DVD, lo vedrò. Mi dispiace, volevo fare il raffronto come ho fatto per altri libri e film, però mi dispiaceva poi far slittare questa recensione. In più a me, come ho detto, i film italiani di questo genere, queste commedie così non mi piacciono, infatti non ci avrei mai speso i soldi su questa cosa, se non nel libro, perché il libro è un libro, il film è quello che è. Mi dispiace, però sono gusti. questo è Dieci regole per fare innamorare di Guglielmo Scilla e Alessia Pelonzi. L'unica cosa che sono riuscito a farmi fare, ovviamente, era un minimo di autografo da tutti e due, ma giusto perché, anche se non mi piace che si scriva sui libri, ma giusto per il ricordo, comunque, non perché ho incontrato lui, che chissà chi è, ma perché comunque un ragazzo che ha un po' i miei stessi gusti, un po' le mie stesse passioni, mi fa piacere che ci siamo ritrovati questa seconda volta, poi il futuro più in là, chissà. Io vi saluto, spero di riuscire a montare il video della fiera di Aversa, che è stato un po' uno sbattimento per me a causa dei treni, però l'ho girata con l'iPod e forse riesco a girare anche il resto con l'iPod in modo che vedrete una qualità migliore. Io vi saluto, ci sentiamo e ci vediamo la prossima volta. Domande qualsiasi altra cosa lo sapete qui sotto i commenti, mi fa piacere confrontarci se l'avete letto. Un saluto, alla prossima.